Con l'apprestarsi della conclusione della stagione si avvicina, anche il tempo dei bilanci e l'ATP, analizzando l'immensa quantità di dati raccolta durante l'anno, propone un fatto statistico a dir poco interessante che riguarda un giocatore nuovo ai grandi risultati. Da Mirzumur. Il bosniaco, numero 31 del mondo, al momento è quello ad avere la percentuale più alta di palle breac convertite 47.8%. In termini concreti, nei 55 match disputati nel 2017 ha messo a segno 213 breac su 445 chance avute. Per rendere l'idea dell'importanza di questo risultato è sufficiente metterlo a paragone con i primi due del ranking. Rafael Nadal ha convertito il 40.9% delle palle breac, 285-696, mentre Roger Federer ha fatto leggermente meglio, 41.2%, 167-405. Il bosniaco è stato efficiente su tutte le superfici e questo gli ha permesso di primeggiare in questa classifica. Sull'erba 62%, 13-21 in 4 match giocati, sulla terra 51%, 27-53 su 9 match giocati, e sul cemento 47%, 173-371 su 45 match giocati. A fronte di tutti questi numeri non sorprende affatto che il 25enne di Sarajevo stia vivendo il miglior periodo della sua carriera. E ricordiamo che nella seconda parte di stagione, sono arrivate per lui tre finali ATP, di cui due vinte, San Pietroburgo e Mosca, mentre in precedenza non aveva mai raggiunto l'ultima giornata di un torneo. Nel 2015 la sua percentuale di palle breac convertite, era al 41% mentre lo scorso anno al 45%. Quest'anno come detto ha raggiunto il 48%, e con essa è salita anche la classifica. Al momento è al suo best ranking, posizione N31. Inevitabilmente il primo passo per arrivare a palla breac è quello di mettere la risposta in campo, e anche in questo zoomur è migliorato. Stando alle classifiche ATP, da mira la quinta miglior risposta del circuito. Ecco qualche altro numero pre farvi un'idea. 32.7% di punti vinti sulla prima di servizio dell'avversario, 51.1% di punti vinti sulla seconda di servizio dell'avversario, 30.4% di game vinti in risposta.